Ciao a tutti ed eccoci qua da Tenore Informatico e bene ritrovati, come sempre qui nel mio canale ragazzi è un piacere per me avervi qui con me per iniziare con voi questo mio nuovo contenuto, un video per parlarti di un programma molto ma molto interessante per te, che può essere installato sia per Windows e anche per Linux. Questo software assomiglia incredibilmente a un programma che già conosciamo tutti, ovvero il CCleaner. Andiamo nella pagina ufficiale per fartelo conoscere, apro il mio Chrome. Il software si chiama il Bleachbet, che tradotto dall'inglese all'italiano significa candeggina per pulire come si era già capito. Pulisci il tuo sistema e libera lo spazio sul disco. Clicchiamo sul download. Le versioni ufficiali sono per Linux e Windows. Scarichiamo subito la versione per il nostro sistema di Windows. Possiamo decidere di ottenere la versione .exe. Questa va installata. O se non vuoi fare nessuna installazione, scarica direttamente il pacchetto portatile, senza bisogno di installazione. Clicchiamo sulla versione desiderata. Io preferisco il .exe. Alcuni secondi dopo verrà scaricato automaticamente il pacchetto che ci serve. Se stai utilizzando il Chrome come me, in alto a destra, possiamo già avviare subito il nostro programmino di Bleachbet. Clicchiamo sopra l'icona del software appena scaricato. Procediamo con l'installazione del software. Accettiamo le condizioni, sempre avanti. Completiamo l'installazione, andiamo avanti e chiudiamo per avviare automaticamente il software. Nella parte in alto a sinistra, l'icona della scopetta con l'hard disk. Basta cliccare e si può decidere di sovrascrivere file, cartelle, oppure sovrascrivere dei percorsi che riguardano gli appunti, pulire lo spazio libero, creare le contromisure o sovrascrivere impostazioni ed uscire dal software. Le preferenze. Nelle preferenze ovviamente sono le impostazioni, si possono fare delle modifiche, di cui nel generale troveremo tutte queste voci qua da attivare o disattivare, personalizzare, il tipo di percorso, aggiungere un file, aggiungere una cartella o rimuovere. Unità. Viene rilevata la mia memoria nel computer, in questo caso la seleziono per aggiungerla alle cose che devo fare su questa memoria e cose che non devono essere eliminate. In pratica ci chiede di scegliere su unità una cartella scrivibile per ogni unità nella quale sovrascrivere lo spazio libero. Da non eliminare ragazzi, questo è importante se magari ci sono dei file o delle cartelle che non vogliamo assolutamente eliminare, inclusi i percorsi dove si trovano quei file. Andiamo su anteprima. Quest'anteprima funziona solo se dall'elenco qui a sinistra abbiamo selezionato quello che vogliamo pulire o rimuovere. Ma prima di procedere ti faccio vedere come distruggere un file definitivamente, sia per cartelle o file. Per esempio voglio sovrascrivere e eliminare un file. Clicco su sovrascrivi file. Seleziono il file da eliminare per sempre in modo permanente che non può essere recuperato. Quindi clicchiamo su apri. Ci chiede se lo vogliamo eliminare in modo definitivo. Se non erro, questo file una volta che viene eliminato non passa dal cestino. Vado a controllare giusto per vedere se passa. Infatti non passa nel cestino. Viene eliminato in modo definitivo. Stessa cosa lo possiamo fare anche per le cartelle e tutte le altre impostazioni che vediamo qui a sinistra. Poi ragazzi troviamo anche la funzione pulisci. Anche qui ci viene chiesto di andare a pulire tutto quello che non ci serve sempre, però andando a selezionare le varie voci che troviamo a sinistra. E quindi andiamo per gradi nella parte in alto a sinistra. Iniziamo da Adobe Reader. Come si è già capito possiamo selezionare tutte le varie voci in un colpo solo, anzi in un clic che comprendono la cache, i documenti recenti e il file temporaneo di quella applicazione che si possono tranquillamente eliminare. Cliccando su anteprima, giusto per vedere che cosa stiamo andando a eliminare il percorso di Adobe Reader, lo spazio che sta occupando, quindi quel file spazzatura che sta occupando quello spazio. Una volta che abbiamo queste informazioni possiamo tranquillamente cliccare su pulisci. Ci viene chiesto se vogliamo eliminare definitivamente i file in base alle operazioni selezionate e confermiamo la scelta. Vi ricordo sempre ragazzi di procedere, prima di fare tutto questo, di creare un punto di ripristino. Magari ci possono essere dei problemi dopo l'utilizzo di questo programma, ma mi sembra alquanto strano. Una volta fatto questo si può procedere con una scansione approfondita del sistema selezionando tutte queste voci, dando conferma. Vedete, ci chiede prima la conferma. Dopodiché, andando su anteprima, possiamo vedere tutto quello che stiamo eliminando in questo momento. Possiamo anche interrompere la scansione. Andiamo avanti per pulire anche il nostro Chrome, selezionando tutto praticamente ragazzi. Ecco, viene tutto selezionato, si possono rimuovere la cache, i cookie, la cronologia dei moduli, la cronologia quella che conosciamo tutti, le password, i motori di ricerca e via dicendo. Attenzione perché selezionata la password verranno rimosse tutte le informazioni salvate sul vostro Chrome. Se non volete rimuovere le password basta deselezionare la voce di password. Una volta che abbiamo selezionato queste voci, clicchiamo su pulisci per avviare la pulizia del nostro Chrome. Uno degli aspetti più importanti di questo software la fa da padrona la sezione di sistema. Ragazzi, qui possiamo pulire praticamente ogni cosa che riguarda il nostro sistema di Windows, di cui appunti la sezione personalizzate, libera lo spazio su disco, i registri. Quindi basta selezionare tutto, ci chiede sempre di confermare ok prima di procedere, ripeto, crea prima un punto di ripristino se hai intenzione di fare la pulizia del sistema. Tutto è selezionato, possiamo anche liberare ulteriore memoria di file temporanei che stanno occupando appunto la nostra memoria. Una volta fatto, clicchiamo su pulisci sistema. Eliminiamo tutto quello che non ci serve. Come puoi vedere, nella parte in basso a sinistra possiamo notare i gigabyte, ovvero la quantità di memoria che sta liberando il mio computer, che sta arrivando quasi a 3 gigabyte, forse supera anche questa quantità. Poi possiamo notare anche nella parte in alto al centro questa barra blu che indica l'avanzamento di pulizia. Attualmente sta rimuovendo tutta quella spazzatura inutile nel mio sistema di Windows. E ci dice anche il tempo rimanente. Bene, siamo giunti alla fine di questo mio video. Spero che questo contenuto ti sia piaciuto. E noi ci vediamo alla prossima da Tenore Informatico. Ciao a tutti! Ciao a tutti!